scotta sei? fai abbastanza ti dirò la verità non da poco non da poco guarda ti fa un po' meno di un'altra parte perché c'è il vento si tira giù il vento ma poi se lo metti su in modo che è brutto andrebbe bene anche per le castagne dopo mi organizzo due solsicce e quattro castagne con un po' di vino in lo corpo che dici già? allora che mi racconti di bello? che ti racconto? andiamo avanti e come va qui? andiamo avanti è un pochino meglio sono meglio